Allora, prendiamo un insieme di rn fisso e prendiamo un punto x non appartenente, vabbè, il punto x di avere. Allora, chiamiamo distanza di x da y, per definizione, è l'estremo inferiore delle distanze di x da y al variare di y. Questa è la distanza di un punto da un insieme, non stiamo a parlare di una vera e propria distanza, gli oggetti sono diversi, però la chiamiamo così, la distanza di un punto da un insieme. Allora, vediamo un po' se, quando è che questa distanza è 0. Se x appartiene a e, certamente 0, però ci sono anche dei punti che non stanno linei che hanno distanza 0 dall'insieme. Quali sono? E cioè, quindi se solo se x appartiene alla chiusura di e, e i punti di frontiera insieme fanno la chiusura di e. Chiaro? Quindi, per esempio, se è chiuso e x non appartiene a e, la distanza è necessariamente positiva. Io dico, l'emma, se c contenuta da m è chiuso e x non appartiene a c, allora, esiste y0 appartenente a c, tale che la distanza di x tra y0 è meno o uguale alla distanza di x da y per ogni y appartenente a c. Cioè, in particolare, la distanza di x da c è il minimo della distanza di x da y al variante di x. Chiaro? questo è il lemma. Praticamente, il lemma, nel nostro caso, era quella cosa lì, perché il compatto è certamente chiuso. È chiuso e limitato. Allora, dimostrazione. Prima di tutto, allora, sia, prendiamo, diciamo, sia y1 appartenente a c. Allora, se io prendo la sfera di centro x e tiraggio la distanza di x da y1 chiusa, y1 appartenente. È che questo sta sulla frontiera di questi zi. Quindi, adesso, prendo, quindi, l'estremo inferiore delle distanze di x da y, tali che y appartiene a c, è uguale all'estremo inferiore delle distanze di x da y, tali che y appartiene a c, intersegato alla sfera di centro x e tiraggio di y1 chiusa. E qua lo dì. Dentro questa sfera, la distanza da x è minore di questo, chiamiamolo, scusate, il centro x è tiraggio di distanza di x da x, secondo me, r. Questo numero qua lo chiamiamo a r. Perché dentro questa sfera, la distanza è minore o uguale di r. Fuori di questa sfera, anche se stiamo in giro, la distanza è maggiore o uguale di r, quindi un punto in questa sfera di c ci sta, quindi che la faccio fare all'estremo inferiore fuori di questa sfera? Chiaramente l'estremo inferiore viene realizzato nei punti che stanno dentro questa sfera. Qual è la differenza rispetto a prima? Che questo insieme non è più soltanto chiuso, ma è anche limite e quindi ecco va. Adesso questo estremo inferiore lo diamo lambda. Continuo qua, finisco la dimostrazione qua, dico sia n appartenente a n, allora per ogni n maggiore o uguale di 2 esiste yn appartenente a c intersecato, insomma questo qua, chiamiamo k, tale che la distanza di x da yn è minore di lambda più 1 su n. Questo perché? Lambda è l'estremo inferiore, quindi lambda più 1 su n non è più, è il massimo di migliorare, questo non è un migliorare, esiste un x, un y su n in c che realizza questa distanza qua a meno di 1 su n. Però, anzi non in c, in k. Perché io ho preso n maggiore o uguale di 2, questo è un mezzo, perché siccome y1 l'avevamo già impegnato, per non impegnare nuovamente y1, allora ho preso n maggiore o uguale di 1. Se cambiavo letta la potremmo mettere per la n maggiore o uguale di 2. Adesso andiamo a prendere la successione x con n, yn. Questa è contenuta in k che è il compagno. Quindi esiste una strata tale che ynj converge a y che è un punto di k. Quello che non ho dimostrato, ma è facilmente intuibile, è che la distanza, no, l'abbiamo dimostrato, ma l'abbiamo dimostrato. Che la distanza, questa è la distanza di punti, quindi non c'entra niente con la distanza di insieme, è una funzione continua. Quindi quando y1 nj converge a y, noi stiamo in evento, ma questo va in spazio medico qualunque, la distanza di x con nj da x converge alla distanza di y da x. Ma questa distanza qua, la distanza di y con nj da x è compresa tra lambda più 1 su nj e lambda. Lambda perché è la resta inferiore e questa, mettiamo questa maggiorazione da là. Quindi questa distanza deve venire per forza lambda, perché quando faccio tendere g a infinito, questo converge a lambda, questo converge a lambda e questo se ne sta convergere. Quindi cosa ho dimostrato? Ho trovato un punto, questo y0, che, dai, la distanza è lambda, ma la distanza coincide con l'esterno inferiore, ma lo potete dire che l'esterno inferiore è un minimo e che vale l'esterno. Va bene, allora quindi questo è un lemma che è utile, cioè quando faccio la distanza di un punto all'insieme si definisce così, ma in realtà se l'insieme è chiuso, la distanza dei punti non appartenenti all'insieme è positiva ed è realizzata con un minimo, cioè è realizzata con un punto, questo minimo è realizzata con un punto di 5. Adesso andiamo a definire, sempre non è una vera distanza, però andiamo a definire la distanza di due insieme. di due insieme. Allora, stavolta abbiamo E ed F, la chiamiamoli D e D, perché F per motivi che probabilmente non mi dicono nulla, ma potrebbero succedere i risetti insiemi di due. Quindi D e D sono due insiemi, sotto insiemi di Rn, chiamiamo la distanza di D da E per definizione l'estremo inferiore delle distanze di x da y, tali che x e y, x appartiene a D e x appartiene a D. Fate attenzione, ovviamente se i due insiemi sono disgiunti, posso dire che la distanza è positiva? Pensate al caso di un punto e un insieme. Là, se il punto apparteneva alla chiusura, la distanza è da 0 lo stesso, anche se apparteneva alla frontiera, ma non era dell'insieme. Quindi, come in quel caso, non posso dire. Cosa ci vorrà finché questa distanza sia positiva? Che i due insiemi devono essere? Basta chiusi? Non basta. Uno, devono essere tutti e due chiusi, ma almeno uno dei due deve essere comparto. Io lo faccio vedere subito con un esempio. In R2, prendete un ramo dell'iperbole xy uguale a 1. Questo insieme qua, insieme delle xy, tali che xy uguale a 1, allora, se abbiamo scritto così, disegniamo anche l'altro ramo, sarebbe questi due rami qua. Questo insieme qua è chiuso. Questo lo chiamiamo c2. Poi avete xy uguale a 0 dell'asse x, lo chiamate c2, questo è un altro più grande. E come vedete, qui avete poche di punti dei due insiemi che si afficinano indefinitamente. Però, se sono entrambi chiusi, e se uno dei due è compatto, almeno uno dei due è compatto. Allora, effettivamente, sono i giunti. Allora, effettivamente la distanza è possibile. L'emma. Se D ed E sono chiusi, e se D è compatto. Allora, esistono x1 appartenente a D, x0 appartenente a D, y0 appartenente a E, tali che la distanza di x0 e y0 è il minore uguale alla distanza di xy per ogni x appartenente a D e y appartenente a E. Allora, cosa faccio? Dico sia lambda uguale all'estremo inferiore della distanza di x da y tale che x appartiene a D e x0 appartenente a D. Allora, allora, dico sia n appartenente a n, e prima di trovare questa distanza di x n appartenente a N. voglio osservare che siccome k è compatto, siccome k è compatto, siccome t è compatto, poiché D è compatto, esiste un M appartenente a N maggiore di 0 tali che mettiamo meno M M alla N contiene contiene D e tali che meno M M alla N intersecato E è diverso da D. allora qua ci avete ed è chiuso D che è compatto ci sarà un bello stradolone che intersega tutto il D. Questo intanto mi dice che lambda è minore di 2M per la Lidia e qua non D. Qua dentro ci sta un punto di E e un punto di D. I punti più distanti in questo scatolone sono quelli in cui tutte le coordinate variano gli due anni. Quindi avete quando andate a fare la distanza viene 2M la radice di N viene per il solito il fatto che le coordinate sono ok? Quindi sappiamo che lambda è questo. Allora io dico che la distanza di D da E è uguale alla distanza di da E intersecato cosa? Intersecato se non sbaglio meno 2M 2M alla M adesso lo faccio vedere qui cioè questo qua adesso lo raddoppio come semi diciamo questo qua centrato nell'origine no? se lo centro nell'origine il semilato era M adesso lo raddoppio perché lo raddoppio? perché prendete un punto che sta qua ok? allora prendete un punto che sta in D prendete un punto scusate che non sta qua che sta al di fuori di questo allora i punti più vicini tra un punto di D e un punto al di fuori di questo possono essere al massimo questi immaginiamo che la frontiera la contriamo sia in D sia in D per quale motivo? ecco diciamo anzi no i punti più vicini stanno qua cioè quando io incremento solo una coordinata ok? quindi qua non devo fare 2M ma devo fare M meno M per 1 più radice di N e qua devo fare M per 1 più radice di N a là in quale motivo? cioè io voglio che un punto eventuale che sta in D e un punto eventuale che sta fuori di questo insieme qui deve di stare per 2 più 2 quadri di N 2 devono di stare più di lambda ma lambda è la 2M e la G quindi io non ho fatto altro che incrementare ogni coordinata i punti su queste due facce di questi ipercubi possono avere tutte le coordinate uguali ma almeno una delle due devono essere in realtà tutte però vabbè qua diciamo forse ho preso un numero sovrabbondante ma non fa niente se prendete un punto fuori di qua e se prendete un punto che sta in D sicuramente la distanza è più grande ok? questo che vuol dire che quando vado a fare la distanza questo è un chiuso perché le intersezioni sono due chiusi questa è la distanza con D quindi la distanza rimane la stessa di qui quindi per fare la distanza non ho bisogno di avere tutto E che può essere illimitato ma mi basta questa posizione qua che è illimitata ok? adesso facciamo l'ultimo pezzo del ragionamento ok l'ultimo pezzo il ragionamento funziona così quindi questa distanza ma è sempre lambda quindi adesso scrivo per ogni n appartenente a n esistono x con n appartenente a D x con n appartenente a E intersezionato eccetera eccetera tali che è comunque appartenente a E è comunque contenuto in E tali che tali che la distanza di x con n da y con n è ovviamente più grande di lambda e ovviamente minore la scelta è minore di lambda che non lo so il problema è che queste successioni non lo so se commetto però queste successioni vivono in due compatte questo è compatto perché era compatto di per sé questo è compatto perché l'ho interseccato limitato e quindi diventato quindi posso dire esiste una sottosuccessione x n j esiste n j tale che x n j converge a x con 0 allora che cosa ho poi poi esiste un'estratta nj nj è la contenuta in l'associazione del miniaturale invece poi esiste un'estratta nj h di nj tale tale che anche y n j h converge a y z cioè qua dobbiamo fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto un'altra volta per dimostrare soltanto questa volta dobbiamo fare solo due volte non n volte cioè quando faccio un'estratta per far convergere la prima successione la stessa estratta la devo fare dall'altra parte che però non so se converge poiché questo viene in compatto soltanto y nj posso fare una seconda estratta cioè l'estratta e l'estratta che converge poiché questa convergeva già la prima estratta quando faccio l'estratta e l'estratta continua a convergere quindi a questo punto io che cosa ho? ho che la distanza di x nj h da y nj h è compresa tra λ più 1 su nj h e λ ok? soltanto che quando h tende a infinito questa tende a λ questa tende a λ e questo pure tende a λ ma se io faccio tendere h all'infinito separatamente se io faccio la distanza di x nj h da y nj h faccio tendere h infinito io dico che questa tende anche alla distanza x con 0 da y con 0 e quale modifica questa distanza era qua qua il problema qua il problema è non posso applicare la continuità della distanza perché ho tutte e due queste che tendono allora io posso dire che la distanza x con n j h da y n j h posso applicare la sguaglianza della sguaglianza d'angola questa è minuto quale della distanza vediamo un po' di x con n j serve più spazio andiamo dietro comunque è bene anzi prendiamo qua cancelliamo solo questa questa non appartiene a lei allora io voglio dimostrare questo perché se dimostro questo allora innanzitutto siete d'accordo che se dimostro questo ho finito perché questo converge alla distanza di questi punti la distanza di questi punti è uguale a lambda e ho dimostrato che quindi rimane da dimostrare soltanto questo passaggio allora la distanza di x con n j h da x con n j h la posso maggiorare con la distanza di x con n j h vediamo un po' se funziona così da x con 0 più più scusate queste sono distanze da y più la distanza di x con 0 da y più la distanza di x con 0 da x con n generale ok ed è allora quando h tende a infinito questa distanza tende a 0 che questo come c'è a questo quando h tende a infinito questa distanza tende a 0 e che cosa ha dimostrato? che il massimo limite di questa successione non supera questo questo siccome il primo limite si aspetta no ma il primo è quanto allora più da questo lo devo fare allora no perché questo è x con 0 qua ci metto y con 0 e y n j ok quanto vediamo un po' si da questo a questo poi da questo a questo e poi da questo a questo adesso si a no a me nella mia testa veniva la confusione non è necessario da chiaro perché mi stavo confondendo tra distanze tra punti questo distanze tra punti con le varie coordinate e distanze tra punti che avevano la coppia di coordinate perciò andavo in confusione ok quindi questo è diciamo la disuguaglianza che mi serve questa disuguaglianza mi dimostra che quando passo al limite questo limite fa questo per quale motivo da lì trovo che il massimo limite non supera questo ma il minimo limite diciamo della successione siccome quello convergeva all'anda mi dice che la distanza disponibile da y è maggiore o uguale di l'anda meno o uguale di l'anda deve essere per forza e quindi è finita la dimostrazione ok quindi la il lemma è dimostrato perché mi serve questo lemma perché adesso dobbiamo andare a fare il risultato veramente importante il risultato veramente importante c'è anche qui due lemmi quindi non abbiamo finito non manca ancora molto i lemmi sono questi qua i lemmi sono questi qua prendiamo due aperti l'emma 1 prendiamo emma 2 compatti k1 k2 compatti di rn k1 disgiunto da k2 ok allora io dico che la misura n dimensionale di k1 unito k2 è maggiore o uguale della misura n dimensionale di k1 più la misura n dimensionale di k1 in realtà è uguale però a noi per dimostrare il risultato che poi dimostriamo la numerabile attività per tutto ci serve soltanto questa parte quindi per adesso questa qua si chiama superattività della misura sui compatti di giù allora io cosa devo dimostrare allora innanzitutto questi due numeri sono finiti entrambi perché le misure dei compatti per definizione sono finite allora chiamiamo questo lambda ok? il secondo allora io che cosa so so che esiste io mi basta mostrare poi dico mi basta mostrare che per ogni epsilon maggiore di zero chiamiamo lambda questo qua per ogni epsilon maggiore di zero esiste diciamo la misura di k1 più la misura di k2 è minore di lambda x se ti mostro questo per l'arbitabilità di x mi viene che viene minore di 4 ok? ok allora qui abbiamo k1 e qui abbiamo k2 non dovremmo fare allora vado a prendere per definizione di lambda che è la misura dell'unione esiste un polinocchio un intervallo p tale che la misura tale che p contenga k1 into k2 e la misura n dimensionale di p sia minore di lambda x ok? c'è un più intervallo di potere l'unione e adesso cosa faccio io posso suddividere il mio più intervallo in tanti piccoli intervallini disgiunti ovviamente dividendo ulteriormente gli intervallini posso far sì che ogni intervallino abbia un diametro cioè la distanza tra due punti diametro due vertici opposti rispetto al centro dell'intervallo opposti nel senso che tutte le coordinate cambiano le differenze di delta delle coordinate cambiano segno rispetto al centro dell'intervallo siano minori siano piccoli tutti questi diametri siano piccoli quando mi pare quanto voglio che siano piccoli quindi P sia scritto come l'unione per H che va da 1 a K di con H e poi voglio che il diametro di con H è uguale al massimo della distanza di X da Y tali che X e Y appartengono ai con H da Y certa volta il diametro la distanza tra questi due vertici qua no amicati in caso bidimensionale e tra i vertici opportuni nel caso bidimensionale e che questo diametro sia minore della distanza di K1 da K2 ora vi ricordo che K1 e K2 sono due comparti disgiunti e quindi c'è una distanza positiva l'idea è questa io ripartisco il mio pluriointervallo in tanti pluri in tanti intervallini ma quello che non voglio è che ci siano degli intervallini che vanno a finire a cavallo tra i due non la faccio tutta la suddivisione però che cosa succede allora vedete se un punto se un intervallino interseca K1 può intersecare anche K2 no perché avremo due punti nello stesso intervallino che hanno una distanza maggiore di questa e quindi maggiore del diametro ma non è questo chiaro quindi cosa posso dire adesso andiamo a considerare chiamo chiamo A diciamo non A voglio chiamarlo gamma insieme degli indici H tali che I H intersecato K1 è diverso dal numero le chiamo delta insieme negli indici H tali che I H intersecato K2 è diverso da numero ok adesso andiamo a fare P1 e P2 allora P1 è l'unione per H appartenente a gamma di I H questo conviene K1 io ci ho messo tutti quelli che hanno S-K e vado a fare P2 l'unione per H appartenente a delta di I questo conviene K2 ok però abbiamo siccome non c'è nessun indici che stia con l'unione in H in gamma e delta e siccome questi qua erano due risulti H intersecato in J era uguale al vuoto se H era diverso da J questo mi dice anche che P1 intersecato a P2 è vuoto perché non c'è nessun intervalente che compaglia sia qui che qui questo che cosa mi dice mi dice che concludo qua mi dice che la misura n dimensionale di P è più grande della misura n dimensionale di P1 unito P2 che è uguale alla misura n dimensionale di P1 più la misura n dimensionale di P2 che è più grande della misura n dimensionale di P1 più la misura n dimensionale di P2 ma che ha tanto spesso il minore di lambda P3 perché? allora tutti gli intervalini che facevano P alcuni stanno qua alcuni stanno qua alcuni li ho buttati quindi questo intervallo è più piccolo di questo quindi la misura scende la misura è uguale alla somma delle misure perché i due intervalli sono disgiunti sui intervalli questo è elementare si può controllare elementarmente la misura dell'unione se i intervalli sono disgiunti alla somma delle misure per definizione questo è un intervallo che può dire K1 questo è più grande la misura di K1 questo è più grande la misura di K2 la somma è più grande della somma ma P era stato scelto in maniera tale che la sua misura fosse minore di lambda più ex cosa ha dimostrato che questo più questo è minore di lambda più ex cosa dovrò dimostrare che questo più questo è quindi ho finito e siamo a ok adesso dobbiamo fare l'altro lemma lo faccio sempre su questa lavagna cancellarlo e poi dopo ci riposiamo un attimo diciamo prima dell'assalto finale in cui dimostriamo la numerabile attività della misura stavolta cosa voglio dimostrare come ho dimostrato la superattività della misura sui compatti di giugli così voglio dimostrare la subattività della misura sugli aperti su due aperti quindi cosa voglio dimostrare una cosa molto semplice l'M2 abbiamo A1 e A2 aperti di A1 allora voglio dimostrare allora la misura n dimensionale di A1 unito A2 è meno uguale alla misura n dimensionale di A1 più la misura n dimensionale di A2 stavolta non mi serve per ipotesi che gli aperti siano giù perché devo dimostrare quest'altra disuguaglianza solo questa e questa è vera anche se l'unica non è giù allora dimostrazione a basta mostrare che per ogni y maggiore di zero la misura n dimensionale di A1 più la misura n dimensionale di A2 è maggiore di della misura n dimensionale di A1 unito A2 meno x ok ok o una precisazione quando ho fatto il ragionamento nell'M1 il mio intervallo P era fatto in maniera che la parte interna di P contenesse K1 unito K2 era fatto in questo modo qua e diciamo il fatto che posso supporre una cosa del genere si capisce dai lemmi che abbiamo fatto perché la misura di K1 unito K2 era l'estremo inferiore delle misure dei primi intervalli contenenti però se lo faccio su quelli tali che la parte interna contiene K1 unito K2 va bene lo stesso il discorso l'ho fatto oggi allo stesso modo posso dire qua che esiste un plurino intervallo P tale che la chiusura di P è contenuta in A1 unito A2 è tale che la misura n dimensionale di P è più grande di la misura n dimensionale di A1 unito A2 meno Epsilon qua stiamo parlando di aperti limitati altrimenti non è vero ok quindi in realtà questo risultato noi per adesso lo dimostriamo solo per aperti limitati qual è la situazione stavolta la situazione è questa abbiamo A1 abbiamo A2 e io prendo un plurintervallo stavolta contenuto in A1 unito A2 Allora che succede prendiamo Rn meno A1 unito A2 questo è un chiuso vediamoci poi prendiamo x appartenente alla chiusura di P prendiamo questa funzione qui la distanza di x da c questa qua la chiamiamo phi di x io dico che questa distanza allora questa qui è una funzione continua anche questo non l'abbiamo dimostrato ma lo dimostriamo phi di x è continua c è fissato e continua in x è banale poi dico che il minimo phi di x appartenente a P segnato di phi di x lo chiamo delta ed è positivo perché la funzione è positiva la sto minimizzando su un compatto quindi esiste il g il minimo deve essere realizzato in un nucleo e quindi deve essere ok adesso adesso dico a andiamo a prendere la distanza questa andiamo a chiamare andiamo a chiamare andiamo a chiamare psi 1 di x la distanza di x da rn meno 1 ora ora questa qua è una funzione continua per per non male per esempio se io prendo un punto qua fi 1 questo è a 1 si prende un punto qua fi 1 è positivo ma se prendo un punto qua fi 1 è 0 questo fu è di a 1 poi prendo psi 2 di x la distanza di x da r con n è meno a 2 questo è continua a 2 ok allora la somma è una funzione continua psi 1 di x più psi 2 di x è continua e il minimo per x appartenente a pi segnale di psi 1 di x più psi 2 di x questo vabbè già lo ho già impegnato abbiamo sigma ma pure questo è positivo per quale motivo stavolta la somma delle due funzioni è positiva perché se il punto non sta siccome deve appartenere all'unione di a 1 e a 2 se non sta in a 1 deve stare in a 2 e ne almeno uno dei due deve stare allora quindi almeno una delle due è sempre positiva quindi la somma è sempre positiva ed è continua siccome sto minimizzando sul compatto il minimo viene realizzato da qualche parte e diciamo questo minimo è sigma ora cosa voglio io voglio anzi vediamo un po' che relazione c'è tra sigma e delta ok ok no no vabbè non mi interessa allora adesso io cosa faccio io voglio dividere il mio plurintervallo in tanti intervallini quindi scrivo come al solito che p è uguale all'unione per h che va da 1 fino a un certo n dicono poi voglio che il diametro di questi icon h sia sempre minore di sigma mezzi posso farlo certo basta che il la diciamo il massimo dei lati di icon h sia minore di sigma mezzi sulla radice di n grande se lei prende il lato abbastanza piccolo il diametro di ognuno di questi intervallini è minore di quindi io divido questo in intervallini molto piccoli guardate faccio la suddivisione solo qua la faccio bene adesso vado a prendere mi serve un altro po' di spazio cancello per un giallo dell'emma e finisco qua vado a prendere l'unione allora prendo gamma l'insieme degli h tra 1 e n tali che tali che i con h è contenuto in a con 1 poi vado a prendere delta diciamo tutti gli indici meno gamma tutti quanti gamma cioè praticamente in bianco con il gesso i quadratini corrispondenti agli indici che stanno in gamma questo questo qua va bene questo non va bene perché esce fuori questo qua e questo qua sono questi qua fino a questa parte qua fino a qua questi stanno in a con 1 quelli che non stanno in a con 1 dove devono stare io dico che se h appartiene a delta allora dico che i con h è contenuto in a con 2 per quale motivo allora prendo x appartenente io so che sin 1 di x più sin 2 di x è maggiore o uguale di sigma ma allora una delle due almeno una delle due almeno una tra sin 1 di x e sin 2 di x è maggiore di sigma mezzi maggiore o uguale di sigma mezzi se fossero entrambe minore di sigma mezzi la somma come fa ad essere maggiore di sigma ma dire che un x sta in un intervallino e dire che la distanza per esempio se la psi con 1 è maggiore di sigma mezzi che significa? significa che la distanza di x da complementare di a con 1 è maggiore di sigma mezzi ma siccome questo diametro maggiore o uguale siccome questo diametro è minore di sigma mezzi se psi con 1 è minore di sigma mezzi vuol dire che i con h sta dentro a con 1 se psi con 2 vuol dire che i con h sta dentro a con 2 ma almeno una delle due deve essere vera quindi se noi prendiamo tutti quelli che non stanno in a con 1 devono per forza stare in a con 2 ok allora a questo punto come possiamo concludere? mi basta una riga faccio ancora una riga e finisco qua come possiamo concludere? noi cosa sapevamo? ci sapevamo che la io chiamo pi con 1 pi con 1 uguale l'unione per h appartenente a gamma di con h e chiamo pi con 2 l'unione per h appartenente a gamma a delta pi con h allora io che cosa so? so che la misura la misura a con 1 più la misura di a con 2 è maggiore o uguale della misura di p con 1 perché p con 1 sta dentro a con 1 e di p con 2 perché p con 2 sta dentro a con 2 e l'abbiamo appena dimostrato però so che questa somma fa la misura n dimensionale di p perché questi qua sono 2 siccome i 2 insiemi sono stati costruiti in maniera complementare insieme degli indici vuol dire che questo per l'intervallo qui e questo per l'intervallo qui non si intersegano io ho preso questi qua da una parte e tutti questi qua quelli che vengono da una parte e quelli che vengono da una parte e quindi questa è qua la misura di p ma la misura di p era più grande della misura di a1 unito a 2 meno s che era quella esattamente la disuguaglianza che dovevo dimostrare quindi la p non serviva niente mi serve però dimostrare che questa funzione una funzione di questo tipo cioè la distanza di un punto da un chiuso è una funzione continua in questo modo lo facciamo dopo la pasta è un piccolo dettaglio che abbiamo lasciato appeso ma lo sistemiamo subito dopo la pasta adesso ci fermiamo 5 minuti poi dopo la pasta dimostriamo che la distanza di un punto di un chiuso è continua e poi facciamo il passo finale nel quale almeno se ho un'unione di insiemi limitati misurabili secondo le pet a 2 a 2 di giugno la cui unione è ancora un insieme limitato dimostriamo la numerabile attività della misura poi per quanto riguarda gli insiemi non limitati il discorso non lo faremo daremo solo la definizione faremo capire perché si deve dare la definizione a parte in quel caso lì però non ci rimettiamo a fare tutta questa manfrina perché appunto non è che diciamo volevo far soltanto dare un'idea precisa di come si fa dimostrare queste cose e poi dopo di che con la teoria abbiamo quasi finito e poi passiamo all'esercizio un'idea un'idea